Avevamo creduto che le parole del Ministro per una volta non fossero le parole di un cialtrone, invece si è dimostrato ancora un cialtrone. Aveva garantito che avrebbe tolto la politica dalla RAI. Ha tolto i partiti e ci si è infilato lui, mani e piedi. Infatti il nuovo Consiglio d'amministrazione sarà espressione della maggioranza, sarà espressione in parte del Governo e in parte della maggioranza e di conseguenza una costola dell'Italicum. Per cui è addirittura peggiorativo della legge Gasparri, la tanto odiata legge Gasparri. Diciamo che Renzi si è spinto oltre e farà tele Renzi. Molto negativo il giudizio su questa riforma sotto ogni aspetto. Innanzitutto sulla composizione del Consiglio d'amministrazione che di fatto è nominato in parte, come dicevo, dal Governo, in parte dalla maggioranza, Camera e Senato e ci sarà il paravento di un lavoratore della RAI. Grazie.